Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova rubrica riguardante misteri e teorie del mondo Pokemon. La prima teoria di cui vi voglio parlare è quella secondo la quale appena prima degli avvenimenti di Pokemon Rosso, ovvero il primo gioco uscito, ci sia stata una guerra nella regione di Kanto. Nel mondo Pokemon ci sono state molte guerre, testimoniate soprattutto nei film come Lucario e il mistero di Mew, ma soprattutto nei videogiochi di quinta e di sesta generazione, in cui la trama prevede effettivamente lo svolgersi di una guerra. L'unica differenza dalla guerra che vi sto per raccontare è che queste guerre sono state combattute in un passato molto remoto, come quella di Kalos che è stata combattuta 3000 anni fa, mentre la guerra che ha preceduto la storia di Rosso è stata combattuta appena prima della nascita del nostro personaggio. Questa teoria è sostenuta dalla frase di Let's Surge che ci dirà quando lo incontreremo in palestra Te l'ho detto ragazzo, i Pokemon di Electro mi hanno salvato durante la guerra Inoltre, Lit, che è l'abbreviativo di Let's Surge, significa tenente in inglese Inoltre, questa teoria spiegherebbe la prevalente presenza di bambini nel gioco, la quasi totale assenza di adulti, il fatto che i ragazzini ricoprano le cariche più importanti della società dei Pokemon, come i capi palestra, ma soprattutto il fatto che il nostro personaggio non ha il padre e il nostro rivale non ha i genitori. Infatti, secondo questa teoria, i genitori del rivale nostro padre sono morti durante la guerra Quindi ragazzi, voi com'è che la pensate? Credete che ci sia stata una guerra prima dei giochi? Oppure pensate semplicemente che il fatto che ci siano quasi solo bambini nel gioco sia dovuto al semplice fatto che Pokemon effettivamente all'inizio è stato creato come un gioco per bambini? Fatemelo sapere qui sotto con un commento E se vi è piaciuto questo video, se volete sentire altre teorie sui Pokemon, iscrivetevi al canale Ci becchiamo in giro, ciao a tutti!